Eccoci qui, eccoci, buongiorno signori, buongiorno a tutti, spero che tutto quanto vada bene, spero che sia un buon lunedì mattina. Allora, signore e signori, io prima di entrare a parlare di questo argomento che ho tenuto tra le, diciamo, nelle scartoffie di quello che volevo parlare per qualche giorno, ho voluto fare un po' di ricerche e capire un po' meglio chi fosse questo soggetto, perché prima di dirvi qualcosa preferisco avere idee chiare. Ma prima di ricominciare, sotto il link in descrizione potete trovare l'app di OneFootball, l'app che è praticamente l'agglomerato di notizie che vi aiuterà a seguire il mondo del calcio, il mondo del Milan, della vostra squadra del cuore, in questo momento di calcio al mercato e soprattutto per questo tipo di news che vi sto per raccontare. Allora, Ranadive è il nome di questo presunto, lo dicono magnate, magnate indiano, quando la realtà dei fatti è che lui nasce in India e dopo gli studi si va a finire di studiare alla MIT in America. Diventa, si apre il suo piccolo business che fa crescere, diventa un cittadino americano, per cui prende il passaporto americano, studia appunto là, nella MIT, e quando sapete cosa è la MIT, una delle scuole migliori per la tecnologia o software e comunque informatica del mondo. Quindi se tu studi lì e esci da lì, non devi trovare un lavoro, te lo vengono a chiedere se lavori per loro. Questo signore decide di aprirsi una piccola, diciamo, una piccola azienda, no? Che poi piccola non è più, perché diventa uno dei migliori produttori di software del mondo. TBC, mi sembra che si chiami la sua agenzia, che crea software e comunque dinamica per computer. E non è una cosa da poco, perché il signore comunque è uno dei, tra i primi cento in America come frattore produttivo, quindi come remunerazione, non è uno scherzo. Allora, questo signore è anche proprietario di squadra di basket, ne ha proceduta una prima che si è venduta e ne ha un'altra adesso che possiamo anche fare l'Indiana, se non sbaglio. Quindi comunque in NBA, non in basket, in basket professionistico, quindi in NBA, è uno dei proprietari comunque di questa squadra. Cosa decide di fare praticamente? Ovviamente, nell'anno scorso, però non vorrei sbagliarmi sul mese, ma mi sembra che fosse stato dicembre, ha fatto un'offerta da Abramovic per comprare il Chelsea per 4 miliardi, punto 3. Dopo l'offerta ovviamente sappiamo che non è stata accettata perché c'era una trattativa che appunto ha portato la vendita a 5 milioni e qualcosa, se non sbaglio, 5 miliardi e qualcosa, qualche altro centinaia di milione, e per cui non si è più fatto l'affare Chelsea. Questo però non vuol dire che si è fermato, perché cosa è successo? Il signore, un bello sveglio, ha visto un progetto intelligente, che è quello del Milan di Redbird, di Cardinale, dove Cardinale va ad approcciarlo, lo chiama, perché da quello che si capisce dalla situazione, che non è stato Raddavi, Raddivani, Raddivani, i nomi un po' così, un po' strani, andare ad approcciare il fondo Redbird, quindi Cardinale, ma proprio l'opposto, è stato Redbird approcciarlo per voler entrare, se volessi poter entrare dentro appunto questo business con il Milan. Da appunto, questa cosa è cominciata più di tre settimane fa, sembra che ormai sia la fine, quindi che farà parte anche lui di quelli che verseranno i soldoni a settembre per il closing, per fare la tranche di soldi finale appunto per comprare il Milan definitivamente. E a parte questo, dovrebbe firmare teoricamente entro due settimane. Questo accadendo, andrà a comportare due cose, quindi, Raddivani avrebbe un altro socio che si aggiunge all'investimento Milan, come noi sappiamo, abbiamo Lebron James, per esempio, che fa parte degli investitori del Milan per Raddivani, avremo appunto questo signore qui addirittura che si unisce alla causa, e cosa succede? Dicendovelo in parole semplici, andrebbe a investire addirittura dentro il mercato, andrebbe a iniettare denaro adesso per il mercato, e iniettare denaro appunto per il closing, per fare passaggio proprietario fino alla fine. Cosa succede? Semplicemente, e molto chiaramente, la situazione è questa qui. Questo tipo di inserimento, questo tipo di manovra che stanno facendo, è secondo me la causa scatenante del ritardo che c'è stato, dovete lasciare la bandiera del Pride, è l'honesto del Pride questo weekend. Comunque, c'è stato un ritardo sul contratto di Maldini e Massara, per quale ragione? Perché Maldini e Massara ovviamente hanno chiesto più potere decisionale, ma questo lo sapevamo già dal principio, che era il problema essenziale del rinnovo, volevano più potere esecutivo, poter decidere. Tu mi dici, guarda, io sono Gazzidis, ti do 50 milioni per il mercato, ma non ci metti bocca, nel senso gli investo dove voglio io. Questo voleva ottenere Maldini. Quindi secondo me il discorso è stato questo, il potere economico è stato deciso molto da questo tipo di trattativa con Mr. India. Il signore, appunto, entrando, ha garantito la parte economica che andrà versata dentro il mercato, e adesso Maldini è comunque la parte economica da versare, e l'autonomia per decidere dove spenderla, a chi comprare, avendo comunque tutto il controllo, diciamo più o meno, direi più o meno solo per alcuni fatti. Secondo me ci sono delle voci nel contratto che hanno firmato, alle quali probabilmente avrà clausole che fermano determinati tipi di strutture, tipo, non lo so, acquisti stupidi, per esempio, o acquisti che non hanno senso, per esempio. Comunque, questo è il fatto, secondo me questo è il principio, questo è il motivo per il ritardo. Sono contento della venuta, chiamiamola, di questo signore, perché è uno che può far arrivare altra gente. Il mio punto è questo qui. Non mi stupirei se ne arrivassero degli altri molto presto, perché il progetto in questa maniera è un progetto molto solido, è arrivato a vincere il campionato quasi pareggiando i debiti in bilancio. Quindi è un progetto solido che adesso si può andare a investire per creare veramente cash molto velocemente. Quindi sono felice di questa cosa, sono esperto di vedere come andrà la prossima parte di tranche, perché sono curioso di vedere cosa succederà adesso, in questo mese di luglio, non solo per gli acquisti, ma soprattutto per vedere quanto veramente verrà investito dentro il mercato del Milan. Con questo signore sotto un abbraccio e Forza Milan!